Comune di Caltanissette, consiglieri Matteo e Schirmenti lasciano nel Movimento 5 Stelle la replica del sindaco Roberto Gambino. Mussomè, l'indagine profanoma, dalla condanna al carcere, quarantenne deve scontare, 12 anni di reclusione. Controlli della polizia nel Nisseno scattano 12 denunce, complessivamente 8 perquisizioni personali. Problematiche sanitarie nel Nisseno, riunione della conferenza provinciale permanente in prefettura. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di politica. Comune di Caltanissette, consiglieri Matteo e Schirmenti lasciano nel Movimento 5 Stelle la replica del sindaco Roberto Gambino. Sentiamo. Da tempo ormai si respiravano diversi mal di pancia in seno al gruppo consigliare. Rimasti inascoltati per troppo tempo, i consiglieri comunali Nina Schirmenti e Marco Matta hanno deciso di abbandonare la maggioranza per transitare nel gruppo misto. La loro percezione è che il sindaco abbia preso le distanze dal Movimento 5 Stelle e il suo operato li ha portati a questa scelta. Adesso, con il passaggio degli ormai ex pentastellati al gruppo misto, la maggioranza vede ridotto il numero dei consiglieri a 10, mentre l'opposizione adesso vanda ben 14 elementi. La motivazione principale della mia fuoriuscita dal gruppo consigliere del Movimento è relativa al fatto che in questi termini e mezzo non ho potuto svolgere in pieno il mio ruolo di consigliere, poiché le mie proposte sono dimaste inascoltate e inattuate. Pertanto, dopo infiniti tentativi di spinta dall'interno, senza alcun esito, non posso continuare a sostenere chi in questi termini e mezzo ha disatteso le promesse fatte in campagna elettorale. Con la forza dei numeri avremmo dovuto rivoluzionare la città. Il sindaco non ha ispirato la propria azione politica ai principi e ai valori del Movimento 5 Stelle, assunto iniziative in maniera assolutamente individuale e non è riuscito a coinvolgere, a creare e coordinare il gruppo. Ho scritto un report di 11 pagine e l'ho inviato al Comitato di Garanzia, al Collegio dei Probiviri, al Presidente Giuseppe Conte, al Vice Presidente Paolo Taverna, sia per email che con il raccomandato ricevuto ai ritorno, però purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta. Quindi arrivata a questo punto mi trovo quasi costretta ad abbandonare il gruppo, poiché non rivedo più quei principi e quei valori che mi hanno avvicinato a questa azione politica più di dieci anni fa. Hanno comunicato di aderire al gruppo misto, per cui escono dal Movimento 5 Stelle, noi ne prendiamo atto. Il Movimento 5 Stelle comunque a Caltanissetta è compatto perché c'è un sindaco, c'è un'aggiunta e ci sono dieci consiglieri comunali, un gruppo folto di consiglieri comunali e noi stiamo costruendo insieme quelle che sono le linee del Movimento 5 Stelle in città e seguendo il programma elettorale. Io mi sento di consigliare ai due consiglieri un atteggiamento di coerenza, quello di dimettersi da consiglieri comunali, perché questo rientra nei principi del Movimento 5 Stelle e se loro ancora si riconoscono un poco nel Movimento 5 Stelle è un'azione che dovrebbero fare. E cambiamo argomento. Mussomè è l'indagine profanum dalla condanna al carcere. Quarantenne deve scontare 12 anni di reclusione. Un uomo di 44 anni, nato a Santo Stefano di Quisquina, residente ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, è stato catturato e condotto in carcere dopo essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Caltanissetta, confermata dalla Corte d'Appello e divenuta irrevocabile, a 12 anni di carcere e a una multa di 9.000 euro, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'attività di indagine, denominata profanum dai carabinieri di Mussomeli, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, è iniziata dopo l'arresto in flagranza dell'uomo il 22 novembre del 2018, per avere storto del denaro a una donna di Mussomeli, con la minaccia di pubblicare le foto e i video che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con il padre della vittima. L'attività investigativa ha permesso di far luce su una serie di gravi reati come estorsioni, truffe e violenze sessuali consumate in diverse località, fra le quali Raffadali, Caltabellotta e Ribera. In particolare l'uomo, frequentando parrocchie e gruppi di preghiera, recita la nota ufficiale dei militari e è riuscita ad allacciare rapporti con alcuni membri delle comunità religiose locali che venivano minacciati della pubblicazione di foto e video che li ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti o truffati dall'uomo. Il 44enne, con la complicità dei genitori, anche loro condannati in via definitiva, sfruttava la sua fama di oculista e guaritore, generandone alle sue vittime la convinzione dell'esistenza dei gravi pericoli che avrebbe potuto risolvere solo lui con preghiere e rituali, facendosi consegnare in cambio dei suoi servizi somme di denaro. Controlli della polizia nel Nisseno scattano 12 denunce, complessivamente 8 perquisizioni personali. Non si arresta l'attività della Polizia di Stato di Caltanissetta, impegnata nel controllo del territorio. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, gli agenti hanno denunciato all'autorità giudiziaria 12 persone, eseguito 8 perquisizioni e sequestrato a Ashish. In particolare, una 44enne è stata denunciata per furto, un 33enne per adescamento di minori, due persone, un 44enne e un 22enne, sono state denunciate per atti persecutori, altre due, un 65enne e un 44enne, per il maltrattamento in famiglia, un pregiudicato 28enne, sorvegliato speciale dall'autorità, è stato denunciato per violazione della prescrizione. Altre 4 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria, un 47enne per danneggiamento, un 37enne per sostituzione di persona, un 61enne per minaccia e un 39enne per violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Infine, un 30enne è stato trovato in possesso di Ashish e segnalato per uso personale di stupefacenti, mentre nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 8 perquisizioni personali. La Croce Rossa italiana, comitato di Caltanissetta, su impegno del Consiglio Direttivo, ha assegnato un'ambulanza all'unità territoriale della Croce Rossa di Resuttano per garantire assistenza sanitaria e le necessarie attività di assistenza alla popolazione. Una novità assoluta per Resuttano, una delle principali esigenze per un territorio con una gran presenza di over 60, svantaggiato dalle problematiche legate alla viabilità e dalla lontananza di un presidio sanitario. Il più vicino è il Sant'Elia di Caltanissetta, a quasi 50 chilometri e un'ora di strada, si legge in una nota firmata dal presidente Nicolo Piave. E adesso parliamo delle problematiche sanitarie nel Nisseno, riunione della conferenza provinciale permanente in Prefettura. Le problematiche sanitarie della provincia di Caltanissetta continuano a rappresentare la priorità dell'azione istituzionale delle autorità locali e regionali. Si è tenuta presso la Sala Protezione Civile del Palazzo del Governo una riunione della conferenza provinciale permanente, finalizzata alla promozione di collaborazione sulle problematiche sanitarie che interessano il territorio provinciale in Nisseno. All'evento, presieduto dal prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia, hanno partecipato l'assessore regionale della salute Giovanna Volo, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, quale rappresentante del Lanci, gli altri sindaci della provincia e il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale, Alessandro Caltagirone. Il prefetto ha posto l'accento sull'offerta di servizi sanitari sul territorio, evidenziando come solo una strategia operativa comune che tenga conto delle necessità dell'intero territorio provinciale, potrà contribuire a migliorare in maniera significativa ed efficace la qualità dei servizi sanitari resi nei confronti della collettività. Poi l'assessore regionale ha ribadito il totale impegno della Regione e dell'assessorato della salute, teso a migliorare la rete ospedaliera e in generale i servizi sanitari. Inoltre, ha illustrato le diverse iniziative e i progetti, alcuni già avviati, attraverso i quali la Regione siciliana sta cercando di elaborare soluzioni efficaci per tentare di superare le variegate problematiche sanitarie. Mentre grande apprezzamento è stato espresso dai sindaci per l'importante occasione di confronto fornita dall'odierna seduta della conferenza provinciale permanente. Da parte loro, ha totale disponibilità a procedere secondo un disegno operativo univoco che, alienandosi da qualunque posizione prettamente locale, consenta di approntare azioni coerenti che nel complesso concorrano a rafforzare la rete territoriale e, più in generale, a migliorare la qualità del servizio sanitario in tutta la provincia. Regione, 45 milioni di euro per rinnovare i bus delle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico extraurbano, regionale e comunale. 45 milioni di euro grazie a queste risorse a valere sul Pondi Infrastrutture e Reti 2014-2020, la Regione siciliana darà l'opportunità alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico extraurbano, regionale e comunale in Sicilia di rinnovare le flotte di bus, acquistando nuovi mezzi ibridi e a ridotto impatto ambientale. È stato emanato infatti da parte del Dipartimento regionale della mobilità e dei trasporti un apposito avviso per la manifestazione di interesse e le aziende che potranno chiedere un finanziamento per l'acquisto di massimo 7 bus potranno inviare la documentazione necessaria entro le ore 13 del 15 febbraio 2023. Gli autobus da sostituire a Rottamare dovranno avere dei requisiti e cioè essere di proprietà delle aziende da almeno 5 anni, immatricolati entro il 31 dicembre 2010 e con una motorizzazione sino a Euro 5 a esclusione degli autobus Euro 0. I nuovi mezzi dovranno essere messi in strada entro il 30 settembre 2023 e nel decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della mobilità e dei trasporti Fulvio Bellomo vengono indicate anche le caratteristiche tecniche generali, il prezzo e le dotazioni minime dei bus che le aziende potranno acquistare. Si fa riferimento infatti alle attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone con disabilità, al contapasseggeri, dispositivi per la localizzazione, predisposizione per la validazione elettronica, videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente, sistemi di aereazione e climatizzazione, alimentazioni a metano o ibrida. L'obiettivo che la Regione persegue, afferma l'assessore alla mobilità e ai trasporti Alessandro Ricò, è quello di contribuire a ridurre l'età media del parco autobus circolante in Sicilia e migliorare la qualità e la sicurezza del servizio offerto, anche per disincentivare l'uso delle auto private, così e anche attraverso la previsione di forme di alimentazione nei motori a basso impatto ambientale conclude, possiamo dare un contributo concreto alla lotta all'inquinamento. L'Inps comunica che dal prossimo primo febbraio 2023 fino al 31 marzo 2023 si potrà presentare la domanda per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. Per ottenere il contributo è necessaria anche l'attestazione ISEE in corso di validità per l'anno 2023. Gli utenti interessati al contributo per il rilascio dell'attestazione ISEE possono presentare la dichiarazione sostitutiva unica la cosiddetta DSU anche in modalità precompilata accedendo al sito Inps si legge in una nota. La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al CAF muniti a seconda dei casi di apposito mandato delega. Per maggiori informazioni sulla compilazione della DSU e sulla relativa attestazione ISEE è possibile consultare il sito internet dell'Inps. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati iniziativa formativa a Caltanissetta Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati è questo il tema del momento formativo organizzato dall'ufficio diocesano Migrantes diretto da Donatella Danna. Migrantes è un organismo costituito dalla conferenza episcopale italiana per accompagnare e sostenere le chiese. Una delle sue finalità è favorire la vita religiosa dei migranti stimolando percorsi e strumenti di evangelizzazione e catechesi nel rispetto delle diverse tradizioni e per un loro inserimento. Al momento formativo è intervenuto Don Santino Tornesi delegato Migrantes Regione Sicilia. Generalmente ogni ufficio diocesano ogni anno deve dedicare uno spazio diciamo convegnistico a me piace chiamarlo momento formativo perché ritengo che sulla tematica dell'immigrazione e della mobilità umana ci sia bisogno di tanta informazione e formazione. Il tema è Dal per al con che è il titolo dell'ultima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ci invita un po' a cambiare il punto di vista di come guardiamo gli stranieri migranti perché quando parliamo di fare qualcosa saper presupponiamo che noi siamo quelli bravi buoni belli preparati abbiamo qualcosa in più è il migrante il destinatario di una nostra azione magari assistenzialistica invece il Papa ci invita sempre più forte a cambiare questo punto di vista e a pensare una società costruita con i migranti per valorizzare le loro risorse e le loro potenzialità Controlli dei rifiuti porta a porta dal 23 al 28 gennaio la Dasti comunica i dati 12 rifiuti non conformi su un totale di 12 controlli gli agenti della Polizia Municipale di Caltanissetta con il supporto degli operatori Dasti hanno eseguito gli accertamenti in alcune vie cittadine cioè via Barone Lanzirotti via Tornatore via Provvidenza via Palestro via Gioberti via Cesare Abba via 20 Settembre via Lamedeo Largo Fatebene Fratelli via Medaglie d'Oro via Santa Domenica Il piano dei controlli a cura della Polizia Municipale con il supporto degli operatori Dasti proseguirà ancora Ci spostiamo a San Cataldo finanziamento destinato alla creazione di un centro di servizi per il contrasto alla povertà Un finanziamento da 118 mila euro per San Cataldo le somme finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verranno destinate per la realizzazione di un progetto a valere sulle risorse dell'iniziativa React.EU l'annuncio all'amministrazione sancataldese si prevede così la creazione di un centro di servizi per il contrasto alla povertà per la presa in carico integrata si precise in una nota congiunta del sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e dell'assessore Gabriele Amico un centro di ascolto nonché l'accompagnamento funzionale allo stato di salute economico familiare e lavorativo dei nuclei familiari residenti nell'intero distretto sociosanitario che si trovano in condizioni di povertà estrema marginalità o grave deprivazione il progetto prevede anche un servizio di mensa all'interno del quale saranno offerti i pasti caldi si legge ancora alle persone più povere della città e ai nuclei familiari in difficoltà economica non beneficiari di altre misure di sostegno e reddito a testimonianza concludono dell'efficacia dell'azione politica e amministrativa del nostro comune in favore della collettività questi soldi serviranno sia per ripristinare la mensa dei poveri che per creare un'equipe multidisciplinare capace di rispondere ai bisogni delle fasce più deboli uno psicologo un legale un assistente sociale tutto questo finanziato con fondi comunitari ancora una volta come comune dopo il bando energia che è uscito qualche settimana fa e con cui il comune ha provveduto a stanziare dei fondi per pagare una parte delle bollette energetiche dei più bisognosi dopo quell'intervento un altro intervento a favore delle fasce più deboli oltre 50 studenti di Caltanissette hanno partecipato all'evento conclusivo del progetto Chimica Amica organizzato dal CEF Passi in collaborazione con il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico il progetto formativo-informativo presentato per la prima volta nel mese di dicembre 2021 si è sviluppato su varie fasi nel corso della mattinata alcuni istituti scolastici selezionati nelle nuove province siciliane si sono collegati da remoto con il centro che ha ospitato in presenza le scuole partecipanti di Caltanissetta fra gli obiettivi del progetto collocarsi all'interno della progettualità del Piano Regionale della Prevenzione scuole che promuovono salute e ancora scuole parliamo questa volta del liceo scientifico Volta anche quest'anno per il terzo anno consecutivo viene riproposto agli studenti del liceo Volta di Caltanissette il progetto generare che è stato inserito nel programma formativo e di orientamento il progetto si svolge grazie ad un protocollo di intesa che era già stato stipulato nell'anno scolastico 2019-2020 tra l'istituto rappresentato dal dirigente scolastico Vito Parisi e il centro di genetica familiare dell'associazione Casa Famiglia Rosetta la finalità del progetto mira l'approfondimento dei temi della ricerca sulle malattie rare sul genoma umano e sugli approcci terapeutici delle malattie genetiche rare con attenzione ai risvolti etici che esso comporta si legge in una nota della scuola le attività riguardano le quinte che stanno completando il progetto iniziato nel 2020 e le terze classi che inizieranno tra febbraio e marzo frequentanti liceo scientifico e liceo scientifico sportivo e adesso parliamo della giovane nissena Sharon Corinne Vitale che andrà a Livebox Casa Sanremo un'altra nissena avrà la possibilità di esibirsi a Livebox 2023 Casa Sanremo si tratta della 25enne Sharon Corinne Vitale Natta e Charine mancano pochi giorni ormai prima della partenza alla volta della Liguria lì dove potrà presentare il suo inedito sono tanto emozionata soprattutto perché è un'esperienza che si farà durante il festival di Sanremo quindi ci sarà l'occasione di poter incontrare anche diversi artisti nella stessa città quindi è come se io stessi diciamo condividendo con loro la stessa emozione è emozionata soprattutto anche perché mi esibiro con un mio inedito quindi con un brano scritto da me e arrangiato da Manuel Scarano e quindi diciamo che l'emozione è ancora maggiore perché è una responsabilità in più questa io sarò lì con il direttore artistico che è appunto Ernesto Trapanese e insieme anche ad un'altra mia diciamo ragazza dell'accademia che è Rosy Biancheri il stancato al des Ernesto Trapanese però sarà l'iBox Casa Sanremo come docente con una masterclass sulla comunicazione tra gli artisti che si esibiranno dunque ci sarà anche la giovane Sharon originaria di Caltanissetta che coltiva la passione per la musica sin da quando era bambina e ha partecipato negli anni a diverse competizioni musicali sia a Caltanissetta che in tutta Italia non si dedica soltanto al canto ma anche alla scrittura di testi che un giorno potrebbero diventare canzoni io ho 25 anni diciamo che ho sempre cantato e vissuto nel mondo dell'arte ho fatto tantissime accademie ho studiato adesso sono a musicologia a Palermo e spero di che la mia passione diventi anche diciamo un lavoro mentre studia infatti è già una vocal coach ma quando si esibita per la prima volta aveva soltanto dieci anni è ormai abituata a salire sul palco eppure dopo tanto tempo ed esperienze vissute le emozioni sono ancora molto forti mi sono subito buttata quindi mi sono subito esibita su un palco che era appunto il nostro palco del Teatro Margherita così senza aver studiato canto inizialmente e mi rendo conto che l'emozione è sempre la stessa e ancora musica Alba Armengu incanta il Margherita si conclude dunque il secondo appuntamento della stagione di Music Art Alba Armengu ha incantato il Teatro Margherita con la sua voce e il suo jazz sopraffino Alba è uno dei prodotti migliori della scuderia di Joan Ciamorro che ha fatto della Catalogna un immenso vivaio di giovanissimi jazzisti insieme al chitarrista Vincent Lopez ha regalato alla platea Missena uno spettacolo immenso data la sua poliedricità e la sua giovane età e punto di riferimento di molti jazzofili di tutto il mondo durante la sua esibizione Alba oltre ad aver offerto le sue doti vocali si è cimentata con il suono della sua tromba a 23 anni ha già prodotto una quantità di dischi visto che calca la scena da quando aveva solo 7 anni e venerdì sera nel secondo appuntamento di Music Art ha presentato alcuni brani del suo progetto musicale Sussurros del Viento Fiori di cenere arte e letteratura in primo piano si chiama Fiori di cenere l'evento tenutosi nella sala fiandaca del seminario vescovile giovedì pomeriggio è stato un momento di memoria tra arte e letteratura a cura di Aurelia Speziale e Maria Grazia Trobia Ad aglietare la serata ci sono state le esecuzioni musicali dei violinisti Aurelia e Nunzio Cannavò e del pianista Corrado Sillitti tra brani di Ennio Morricone Astor Piazzolla e Rolf Loveland La celebrazione della giornata della memoria da anni si tiene all'interno del museo Diocesano ed è stata sempre promossa prima per volontà della professoressa Francesca Fiandaca e adesso per la volontà del nuovo direttore Giuseppe Di Vita quest'anno è il frutto di una collaborazione tra il museo Diocesano e i volontari e lo staff che partecipa insieme con Giuseppe Di Vita le attività e l'organizzazione delle attività del museo ma al tempo stesso è realizzata anche grazie all'ausilio del conservatorio che ci offrirà ben tre brani musicali e poi l'ausilio di alcuni ragazzi del liceo linguistico Ruggero VII che leggeranno in tedesco cosa devono leggere in tedesco e qual è il cuore dell'incontro l'incontro si intitola Fiori di genere ma in realtà è un approfondimento su una serie di quadri che si intitolano Fughe di morte di un pittore tedesco che si chiama Hansel Kieffer che ha tratto l'ispirazione per questi quadri da una poesia di Paul Zellan un poeta molto complesso ma di grande profondità dovuta anche all'esperienza di vita i suoi genitori morirono in campo di concentramento ho accolto con piacere l'invito a partecipare a questo evento dal titolo Fiori di cenere perché comunque la ricorrenza e gli eventi correlati alla giornata della memoria sono molto importanti tra l'altro è un'attività che vede convolte anche le scuole in particolare il liceo Ruggero VII di Caltanissetta e quindi per l'occasione ho voluto dare il mio contributo musicale Parliamo di sport Calat Winner premiazione al centro culturale polivalente Michele Abate Al centro culturale polivalente Michele Abate lunedì pomeriggio sono state premiate tutte le benemerenze sportive nissene nell'ambito del Calat Winner Caltanissetta che vince nello sport Kermes organizzata dal CONI e dall'assessorata allo sport del comune di Caltanissetta Agli sportivi e alle società premiate sono state consegnate una stella di bronzo e una medaglia di bronzo al merito sportivo Tra le società premiate ci sono state le pallavoliste dell'Alba Verde i cestisti dell'Invicta e i pattinatori dell'Eclettica Sport, Salute e Disabilità un convegno a San Cataldo sentiamo i dettagli nel servizio Sabato pomeriggio a San Cataldo presso la Sala Borsellino si è tenuto un convegno Sport, Salute e Disabilità organizzato con il patrocinio del comune di San Cataldo insieme alle realtà locali tanti temi trattati con dinamiche fondamentali che associano i tre temi l'evento si è concluso domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport dove sono stati premiati gli atleti e le società sportive san-gataldesi che si sono ben distinte sullo Sport, Salute e Disabilità convinti che questo trinomio sia un trinomio che va sempre deve essere sempre più consolidato oggi abbiamo tanti ospiti tante le associazioni sia sportive che nel mondo della disabilità tanti cittadini e questo è il modo giusto per continuare a parlare di sport e per continuare a far vivere lo sport nella nostra città è un'occasione per mettere insieme queste tematiche che sono molto importanti tematiche che riguardano tutti noi e che rappresentano un punto importante di partenza per lo sport e le attività san-gataldesi abbiamo ospiti importanti che ringraziamo per la loro presenza il patroginio del CONI che ci ha concesso di organizzare questa straordinaria attività che si concluderà domani presso il Palazzetto dello Sport con la premiazione delle associazioni che si sono distinte durante l'anno passato associazioni san-gataldese e sportivi san-gataldese che hanno dato il loro impegno e la loro passione a servizio e hanno portato in giro il nome di San Cataldo per tutta l'Italia il tema è un tema di fondamentale importanza nell'attività sportiva cioè lo sport la tutela della salute delle disabilità se volete anche la tutela dei minori e quindi l'importanza del tema l'importanza dell'ente che organizza mi spinge ad essere presente rappresento anche il CONI Sicilia e il Presidente D'Antoni e sono qui anche per un rapporto di grande amicizia che mi lega al Presidente regionale della Libertas Pino Mangano Bene era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento dei nostri previsioni per la giornata di mercoledì che tutto sommato sarà bella in gran parte d'Italia prese un'atmosfera che rimane relativamente alta sul Mediterraneo e sul nostro paese correnti freddi in arrivo dal nord Europa raggiungendo nuovamente il nostro paese specie il medio adriatico e il sud nelle giornate successive ma senza grandissime conseguenze nuvolosità poco da segnalare qualche nuvola qualche velatura si farà vedere ma in realtà sono nubi di poco conto non lasciatevi spaventare in effetti come precipitazioni praticamente nulla da segnalare ci attende un mercoledì tranquillo in tutta Italia non prevediamo piogge significative quindi in definitiva mercoledì di bel tempo in gran parte del paese qualche nuvola si fa vedere soprattutto qua sull'alto Tireno a causa di correnti umide in arrivo dal mare ma per il resto è davvero giornata tranquilla temperature diurne in leggero aumento potremo anche tornare a sferare i 15 gradi però di nota a primo mattino ci sarà ancora bisogno di coprirsi bene per tutti i tagli in ogni caso sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno Pantano via Don Minzoni servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco 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 Viale Luigi Monaco